Sono tutte e due dei piatti veramente difficili, cioè non provarli, non assaggiarli, cioè è davvero un suicidio, ci sono un sacco di preparazioni. Non è una delle prove che mi mette più a mio agio di tutte, in quanto la pasta fresca non è proprio il mio forte, ma alla fine sono organizzato di testa, che ho il brodetto in cottura, le cozze e le vongole stanno cuocendo, ora lo metto sull'astici e intanto marino il pesce, quindi sono tranquillo, nel bene o nel male io combatto. Dal punto di vista mentale penso di essere il più solido, forse l'unico, manco vorrei dirlo, ma è Francescone, che è un altro che comunque fa i suoi errori e pure va avanti, cioè non si abbatte, quella è la mia dote alla fine. Ho perso un paio di passaggi, la salsa, manco mi ricordo il nome, più che riesca a farlo. Ma andragata, dirlo fuori, non vi preoccupate, che ce l'ho sempre quanta asca, ma quando si girano tutti, tac, e si va avanti, senza paura. Super! Super!